salve a tutti cari visualizzatori e visualizzatrici oggi vi porto un unboxing davvero speciale di questo pacco che mi è arrivato dalla sud corea e che contiene un'edizione limitata di un disco di un gruppo brasiliano non ho ancora capito perché il pacco è spedito dalla sud corea però credo che la label sia di quelle parti lì questo pacco qua in realtà lo aspetto da tre settimane se non mi sbaglio però comunque sono stati nei tempi prestabiliti ed è un'edizione davvero molto prestigiosa nonostante il gruppo sia praticamente semi sconosciuto e a quanto capito è alla sua prima opera quindi già proporre una cosa del genere tanta roba poi io credo in questo progetto ce l'ho sentito il loro album è veramente fighissimo quindi quando ho visto questa edizione non ho potuto proprio esimermi dal dal comprarla e spenderci i soldi che ci ho speso allora andiamo subito a vedere questa è l'edizione limitata degli umano l'ipicasao catalizzatore ultrapassa oslimites trascendentalis o più comunemente detti uncult l'edizione si presenta subito con questa confezione di metallo molto bella con il logo comunque in rilievo andiamo ad aprire vedere che cosa contiene la prima cosa che ci viene subito all'occhio è la numerazione e come dice il buon farens questo segna davvero una edizione limitata la numerazione ovvero che comunque solo io la copia numero 20 su 50 di questo disco poi abbiamo un accendino vediamo se come la buona tradizione delle edizioni limitate con l'accendino non funziona lo sapevo magari sono io che lo accendo male dato che non sono pratico poi abbiamo il disco chiuso in questa corda come per segnare che è un qualcosa di il nome dell'album è qualcosa di illeggibile dato che è scritto in mi pare ebraico quindi ragazzi io non so leggere l'ebraico ancora quindi e poi abbiamo un rosario abbiamo un rosario e cioè young cult suonano una specie di black metal super super cacofonico con degli elementi a dark ambient quindi esattamente questo rosario per che cosa lo potrei usare un attimo un attimo arrivo subito un attimo nuovamente l'uomo l'uomo A presto...